Hanno accompagnato i visitatori a scoprire alcuni dei luoghi più suggestivi della città di Torre del Greco. Grande partecipazione sabato mattina per la giornata dei tesori nascosti, manifestazione conclusiva del progetto I tesori nascosti della Campania, iniziativa che nasce all'interno della rete dei licei artistici, volta alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale del territorio. Protagonisti sono stati gli alunni dell'Istituto Degni, che in veste di Ciceroni hanno condotto i visitatori alla scoperta di quattro siti, Villa Sora, Museo del Corallo, Palazzo Baronale e Cento Fontane. Presente anche il sindaco Giovanni Palomba. Un evento importantissimo organizzato dalla scuola Degni, saluto la preside, tutto il corpo degli insegnanti, i ragazzi che sono qui a Palazzo Baronale per far visitare il Palazzo Baronale e altri siti come quello di Villa Sora e della loro scuola, come un fatto culturale, ecco anche come far conoscere quelle che sono le bellezze della nostra città di Torre del Greco. Valorizziamo quelli che sono i territori nascosti di Torre del Greco, oltre a cui le Cento Fontane, il Palazzo Baronale e raccontiamo noi ragazze del Degni un po' quella che è la storia, quello che accomuna Torre del Greco e anche i paesi circunvicini. Togliamo l'occasione per vedere all'opera queste bellezze della nostra città di Torre del Greco. Quest'iniziativa è stata appunto svolta per dare più valore alla città di Torre del Greco, al suo patrimonio sia artistico che culturale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.